ci occupiamo ora di alcune grandezze importanti e in particolare del flusso del campo elettrico ricordiamo prima alcuni concetti fondamentali che riguardano il campo elettrico se abbiamo una carica q attorno a questa carica lo spazio assume caratteristiche fisiche particolari che noi riassumiamo dicendo che esiste un campo elettrico andando ad esplorare lo spazio circostante la carica q con una carica esploratrice di intensità piccola otteniamo che la forza è data dalla forza di coulomb quindi k è prodotto delle cariche fratto r quadrato per il versore la forza naturalmente sarà f uguale q per e la definizione del campo elettrico ricordiamolo è data dal limite per q tendente a 0 del rapporto f diviso q che mi dà semplicemente k e la costante per q fratto r quadrato per il versore è essenziale che q tenda a 0 cioè che q sia estremamente piccola per evitare che il campo elettrico della carica esploratrice vada a deformare influenzandolo quindi il campo della carica q che noi vogliamo studiare le unità di misura sono newton su coulomb ma abbiamo visto che è possibile anche un'altra unità di misura volt su metro e la forza nel punto in cui si trova la carica esploratrice è data dal prodotto q per e discorsi del tutto analoghi se il campo è generato da una carica negativa in questo caso abbiamo un segno meno che compare dovuto proprio al fatto che la carica che genera il campo è negativa quindi le formule sono assolutamente simili salvo la comparsa appunto del segno meno che mi dice che la direzione della forza è opposta rispetto al caso precedente anche qui abbiamo ovviamente f uguale q per e ricordiamo anche il concetto del lavoro di campo elettrico se noi dobbiamo passare da un punto a un punto b in un campo elettrico rappresentato da queste linee di campo tratteggiate noi possiamo suddividere la linea in tanti tratti dl o delta l e per ognuno di questi tratti calcolare il prodotto scalare e per delta l il quale prodotto scalare e per delta l qui esplicitato e per delta l per il coseno di alfa alfa è l'angolo che il campo forma con la direzione dello spostamento è dato dalla differenza di potenziale da cioè la differenza di potenziale tra e b u a b che coincide con il lavoro del campo elettrico per andare da a b questo potenziale si misura non in joule ma in volt il campo elettrico è conservativo ciò significa che il lavoro per andare dal punto a e tornare passando attraverso varie traiettorie al punto a è sempre 0 in questo caso abbiamo che il lavoro per andare da a ad a lungo il percorso chiuso è dato dal lavoro fatto per andare da a verso b lungo il percorso 1 più il lavoro fatto per tornare da b verso a lungo il percorso 2 e la somma in questo caso deve essere 0 questo fatto può essere spiegato anche perché in certe lungo certe traiettorie abbiamo un angolo tra campo e spostamento minore di 90 gradi e quindi il coseno è positivo il contributo è positivo e in altre situazioni possiamo avere come in questa il campo che forma un angolo maggiore di 90 gradi con lo spostamento il coseno sarebbe negativo il contributo è negativo teniamo presente che poiché il lavoro per andare da a a b lungo il percorso 1 deve essere uguale a meno il lavoro per andare da b ad a lungo il percorso 2 portando u b a 2 al secondo membro ma teniamo anche presente che meno u b a lungo il percorso 2 è uguale a u a b ho invertito gli indici sempre lungo il percorso 2 possiamo affermare che il lavoro del campo elettrico non dipende dalla traiettoria infatti avremo che u a b lungo il percorso 1 è uguale a u a b lungo il percorso 2 come otterrei con il lavoro per qualunque altro percorso quindi il fatto che il campo elettrico sia conservativo significa che il lavoro fatto per andare da un punto all'altro in questo campo non dipende dalla traiettoria con cui vado da un punto all'altro nel campo stesso ciò significa che posso definire una funzione differenza di potenziale che dipende solo dal punto di partenza del punto di arrivo e non dalla traiettoria